In vista dello sciopero in programma per domani 15 dicembre la Filcamps GGL di Teramo ha annunciato che garantirà insieme alle lavoratrici e lavoratori della PAP, la società che ingestiona i servizi livello minimo riguardo la distribuzione dei pasti negli ospedali e case di riposo. In teoria al norma di legge noi il 15 dicembre insieme alle lavoratrici e lavoratori potevamo far digiunare pazienti, bambini e anziani della casa di riposo. Questo non lo facciamo perché per l'ennesima volta abbiamo un senso di responsabilità insieme alle lavoratrici e lavoratori per quello che facciamo tutti i giorni, per quello che andiamo a svolgere un servizio tutti i giorni, quel senso di responsabilità che manca a chi invece doveva garantire loro uno stipendio e uno stipendio non lo garantisce. Ma oltre allo sciopero di domani il sindacato ha annunciato che se il 16 dicembre non ci saranno sui conti correnti delle lavoratrici e dei lavoratori tutti gli stipendi arretrati, continueranno con lo sciopero e si tiene nelle giornate del 24 e 25 dicembre. Questo fino a quando non verranno restituiti dignità e rispetto ai lavoratori interessati da questa drammatica condizione. Adesso l'unica cosa che si può fare è far arrivare i soldi nei conti correnti delle lavoratrici e dei lavoratori, è l'unica cosa che può fermarci, altrimenti noi abbiamo già programmato delle iniziative che saranno sotto Natale, ma non ci fermiamo più, quindi noi possiamo annunciare una alla volta ma continuiamo fino alla fine, fin quando non chiediamo rispetto e dignità per lavoratrici e lavoratori. Ricordiamo che stanno lavorando senza stipendio negli ospedali e nelle case di riposo, non per 5-6 mila euro al mese ma per 5-600, 700, 800 euro al mese.